Calcio, tennis, basket e motori e pugilato nel sommario della pagina sportiva. Apriamo con il calcio e con la Lucchese, una vittoria che manca ormai da tre mesi e un'infermeria troppo affollata. Il periodo della Lucchese è più nero che rosso nero e all'orizzonte incombe la sagoma minacciosa della Virtus Entella. Avversario ostico, quello che Colette e compagni dovranno affrontare giovedì sera, ricordiamo alle ore 21. Nel posticipo tra l'altro di lunedì sera la squadra Ligure di Mister Volpe ha battuto con un perentorio 3-1 il Siena. Purtroppo all'acclarata crisi tecnica della Lucchese si aggiunge anche l'emergenza infortuni. Mauro Semprini è stato operato al menisco del ginocchio destro e dovrà star fuori circa un mese. La sua assenza si farà sentire anche perché si aggiunge a quella di Fedato, fuori da diverse settimane, e che dovrebbe rientrare solo fra 15 giorni. Gli stessi tempi previsti per Papini che in questa fase poteva costituire una buona alternativa in difesa anche sugli esterni. L'impegno di giovedì sera con l'Entella e poi domenica prossima ancora al Porta Elisa arriverà la Fermana. Sono due gare delicatissime dove i rossoneri dovranno cercare di raccogliere punti per una classifica che si è fatta anche difficile e complicata. C'è l'arbitro di Lucchese Virtus Entella, Dario Madonia di Palermo dirigerà l'incontro assistenti di linea, Andrea Zezza di Ostia Lido e Mario Pinna, lo vediamo appunto alla Terna, di Oristano. Scendiamo in Serie D e torniamo sulla pesante sconfitta del Givi Borgo punito da Lucchese Manuel Pera. Una domenica così, anzi una batosta così, non la potrò dimenticare. Lo 0-4 è risultato pesante che non lascia spazio ad alibi. Il Givi Borgo, che cercava l'aggancio al forri e alla zona salvezza diretta, ne esce con le ossa rotte al termine di una partita dove tutto è andato storto, ma doveppure, dobbiamo ammettere, la squadra di Walter Vangioni non è riuscita ad esprimersi come aveva saputo fare negli ultimi due mesi. Un brusco passo indietro che non deve significare mollare la presa. Qui non c'è da mollare proprio nulla, anche perché la vera lotta per la salvezza comincia adesso. La Faina Vangioni, che è uomo di calcio ed anche abbastanza scaltro, ha voglia solo di guardare avanti, anche perché, lo dice l'antico proverbio, che piangere se addosso non serve proprio a niente. Cancelliamo questa giornata, prendiamo i cocci perché, al di là dei risultati, abbiamo perso delle pedine importanti. Ora vediamo con lo staff medico per quante giornate, perché quello che mi rammarica di più, al di là del risultato, tanto perdere 4-0 o perdere 2 cambia poco, secondo me. Sono sempre tre punti persi, perciò pensiamo alla partita prossima. Andremo a giocarci le nostre carte, sapendo che è un'annata che dobbiamo fino alla fine lottare per evitare la retrocessione, che tre mesi fa era una cosa certa. Mattatore assoluto della giornata, soleggiata del Carraia, lui, Manuel Pera, 38 anni suonati e non sentirli. Lui, lucchese doc, che dalle parti del Morgagni di Forlì è ormai una vera e propria istituzione e non è a caso è anche il valoroso capitano dei biancorossi romagnoli. Sua la doppietta, prima di testa e poi su rigore, che ha fossato il givi, in quello che per l'attaccante di Lammari era una sorta di derby. Qualcuno, pochi mesi fa, l'aveva accostato anche alla lucchese e ad un suo possibile ritorno, all'ombra delle mura. C'è gente sicuramente che fisicamente sta meglio di me, oramai la mia categoria è questa e niente, io ovviamente faccio il tifo per la lucchese, sono il tifoso che segue, però va bene così, ovviamente io sono contento di quello che ho fatto a Lucca e mi basta così. Ancora calcio, la sconfitta interna, una due patita domenica scorsa contro Valdinievo e Montecatini, è stata fatale ad Edoardo Michi, che non è più l'allenatore del River Pieve, formazione di eccellenza. Al posto del popolare Basetta potrebbe arrivare l'ex compagno di squadra Pacifico Fanani. Nelle prossime ore comunque il River Pieve annuncerà il nuovo tecnico che esordirà poi domenica nel derbissimo di Castelnuovo. Il tennis nel 32esimo di finale del torneo WTA 1000 di Doha, la 26enne tennista lucchese Jasmine Paolini è stata battuta in 3-7, 2-6-6-3-5-7 dalla forte Berga Elise Mertens, testa di serie numero 16 del tabellone. Vero peccato perché Jasmine si è trovata avanti 4-1 nel terzo e decisivo set, tanto la Paolini sale ancora nella classifica mondiale e adesso si insedia al numero 44, best ranking della Azzurra. Non è un gran momento per il Bama al Topascio nel campionato di C-Silver, appunto di basket. Il rosa-blu di Coccia e Giuntoli sono stati battuti 67-62, 6-7-62 a Capannoli dalla pallacanestro Valdera. Partita giocata malissimo dalla formazione al Topascese che ha sbagliato tutto quello che era possibile sbagliare. Prossimo impegno domenica alle 18 al Palabridge contro il CMB Carrara. Vale una medaglia d'argento l'ottima prestazione di Ernestina, Luz, Rossi, Toribia e campionati italiani di sparringio svoltisi a Chianciano Terme. La giovanissima atleta della pugilistica lucchese è inaugurato così con un importante risultato, la vediamo in questa foto, la stagione pugilistica 2022 che deve ancora entrare nel vivo. Un risultato davvero importante per l'atleta allenata dal maestro Giulio Monselesan, a maggior ragione visto che è stato conseguito nella sua prima partecipazione ad un evento di carattere nazionale. I motori Michele Marchi e Fabrizio Vecoli guidano la classifica del 17esimo premio Rally Automobile Club Lucca al Rally del Carnevale. Il giovane driver, parliamo di Michele Marchi che vediamo in questa foto, ha concretizzato la sua prova al vertice della classe N3 al volante della Renault Clio RS. Tra l'altro in vista del secondo appuntamento per il premio Rally a Cirucca, ovvero Rally del Ciocco della Valle del Serchio, 4 e 5 marzo, sono state riservate condizioni particolari ai protagonisti di questo premio con una riduzione del 20% sulla tassa di iscrizione. E a proposito di Rally del Ciocco, continua il nostro Ciocco Story, questa volta andiamo a raccontare come finì 5 anni fa, nel 2017. Al Ciocco, il nuovo che avanza. La quarantesima edizione, gara di apertura del CIR 2017, va infatti a Simone Campedelli, al volante di una Ford Fiesta R5 che approfitta dell'uscita di scena del nove volte campione italiano Paolo Andreucci, costretto a ritiro per un guasto al motore della sua Peugeot 208 T16 R5 sul primo passaggio dei Coreglia, quando era saldamente in testa. Sul secondo gradino del podio sale un ottimo Rudy Michelini su Ford Fiesta R5 che ha fatto vedere bellissime cose. Terzo, Alessandro Perico, Skoda Fabio R5. Sulle strade di casa, Andreucci, risolto il problema alla valvola pop-off dell'alimentazione della sua vettura, ha chiuso al comando la prima tappa del sabato dopo aver completato la rimonta su Simone Campedelli. Sembrava tutto filasse liscio per lui quando sul più bello il motore si è mutolito. A Campedelli va il successo nella seconda tappa della domenica, che vale anche il primato nella classifica generale provvisoria del CIR. Inizia invece tutto in salita il tricolore del veronese Umberto Scandola, che ha pasticciato ad un controllo orario incassando una penalità di un minuto e poi ha alzato bandiera bianca per un problema al differenziale. Ciocco difficile anche per il siciliano Andrea Nuccita, sempre tra i protagonisti frenato prima da noi alla trasmissione e poi costretto a fermarsi per una foratura. Infine la giovane promessa Calle Rovanpera ha fatto capire di che pasta è fatto sulla Peugeot 208. Il sedicenne Finnico, figlio di Harry, vincitore di un mondiale, si è ritirato nella prima giornata dopo aver rotto il braccetto posteriore sinistro e nella seconda si è fermato per sostituire la ruota posteriore sinistra, perdendo ulteriore tempo. Ovviamente il Ciocco Story proseguirà anche nei prossimi giorni fino all'ultima edizione, quella dello scorso anno, del 2021. È tutto per quanto riguarda la pagina sportiva del TG9, una breve pausa e poi il telegiornale prosegue con la terza ed ultima parte. Grazie.